musica come sapete? su un capo che è il primo gruppo che vada a mettere una tezzia e si intende e andate per omicidio della contessa a volte omicidio a trafonditi una settimana fa una sera e voi siete principali sospettati e io sono di amicidio musica 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 Un po' dentro ai disturbi mentali! ZAR! 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 Che cazzo da te! Il bagno ci vorrà questo interno il caderno di te. Ma l'ho finito! Senza esalti ci siete! Non ho più scherzo la mia vita! Corriamo a noi! Ma come senti? Senta favore! Perché come senti gli occhi succedessero? Enrico è favore! Prima non mi sentirei, ma non mi io meglio! Iniziamo! Adesso è giunto il momento di svelare chi è volpevole!